SIGNORI E SIGNORE GEMME SIGNORI E SIGNORI DEMOLIZIONE SALTO SIGNORI E SIGNORI 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 Avete preso un punto entrambe Pare che il punteggio finale sia un pareggio Beh, il risultato è chiaro Sarete entrambe a capo del progetto No! Non è finita qui! Chiedo di poter fare uno spareggio Perché non ti dai pace? È finita, è un pareggio Siamo uguali, bisogna guardare avanti No! Sei una perla Sei di grado inferiore Io sarò sempre migliore di te E da quello che ho visto, niente cambierà le cose Bene, allora hai mai visto una perla fare questo?